ciao ragazzi 365 giorni con vale vedete questo paio di orecchini molto carino vedete il triangolo con vedete quest'altra figura geometrica e gli altri tre triangoli diciamo che questo è un orecchino molto geometrico se volete imparare la geometria usate questi orecchini più geometrici di loro non c'è niente ciao alla prossima